A Teramo a partire da questa mattina è stato chiuso Corso San Giorgio, sia al traffico veicolare che pedonale, ma lo sarà a tratti, questo perché è stata avviata la pulizia della pavimentazione, che dovrebbe essere il preludio della riconsegna alla città dell'opera, iniziata oltre 4 anni e mezzo fa, il 24 ottobre 2015. Il primo tratto ad essere chiuso e vietato al transito è quello tra Piazza Garibaldi e Via Michetti, cioè fino all'incrocio della sede della Banca Popolare di Bari. Come avverte l'amministrazione comunale restano garantiti gli accessi per i residenti e per le attività commerciali e di servizi. E' stato definito il cantiere Lumaca, insomma paragonato a questi interventi sulle opere pubbliche e lunghi, di fatto è stato così, i problemi sono stati enormi, io devo dire che nell'ultimo anno per quanto riguarda la seconda parte dei lavori si è lavorato diversamente, si è lavorato bene, con tempistiche assolutamente rispettate, sostenibili nel dialogo con i commercianti e oggi apriamo quest'altra fase, si torna su Corso San Giorgio per l'intervento di impermeabilizzazione e di pulizia che occuperà le prossime due settimane e abbiamo ritenuto di anticipare questo intervento rispetto agli altri, cogliendo l'opportunità, purtroppo devo dire, del tempo che viviamo per dare il minor disagio possibile ai cittadini e alle attività commerciali, visto che c'è una fase nella quale comunque siamo ancora nel lockdown un spinto. L'arredo urbano sarà ovviamente il prossimo step, nel senso che comunque non si è mai fermata la procedura amministrativa, nel senso che abbiamo proceduto con gli ordini, con l'acquisto insomma degli arredi e sarà ovviamente il prossimo step dopo questo intervento. Che ci siano stati ritardi a cascata, problemi è evidente, però devo dire che in questa fase siamo riusciti a, diciamo così, rimettere in carreggiata e all'interno di binari, voglio dire, diciamo perfetti ma accettabili, un lavoro che riguarda il cuore della nostra città e su cui dobbiamo cercare di recuperare il terreno non soltanto in termini di tempo ma in termini di immagine e soprattutto in termini di estetica per il nostro centro storico.